Forse eravamo 80.000 i disettori. Testimonianza di Pietro Bruno, media valle stura, classe 1896, contadino. La mia era una famiglia piccola, fame non ho mai fatta. Vivevamo a castagne, polenta e pane misto di grano e di segala. Avevamo due vacche. A 12 anni sono andato la prima volta a Barcellonette. Dal mio paese partiva un carro con i bambini sopra, pagavamo una lira per persona, ci portava fino a Pianche. Poi da Pianche a Barcellonette andavamo a piedi. A Barcellonette nel mese di aprile, ogni giovedì, c'era il mercato dei bambini. C'erano sempre 300-400 bambini e bambine che si affittavano. Alle 10 del mattino il mercato era già deserto, tutti affittati. Il primo anno, dal terzo giovedì di aprile fino a San Martino, ho guadagnato 110 franchi. La mia padrona era una vecchia sola, portavo le sue pecore al pascolo. Il secondo anno ho guadagnato 125 franchi. Poi ho preso ad andare dalle parti di Grasse all'inverno, 50 soldi al giorno a raccogliere le olive. Il nostro lavoro era in Francia o in America perché qui non c'era da guadagnare una lira al giorno. Poi è venuta la guerra. Io ero negli Alpini, battaglione Argentera. Siamo partiti con la tradotta da Borgo San Dalmazzo. Eravamo tutti brilli, gli ufficiali ci avevano offerto da bere. Scaricati a Cividale abbiamo raggiunto a piedi Caporetto. Da Caporetto vedevamo che sul Monte Rosso era un fuoco solo. Non capivamo come lassù potesse vivere della gente. Tra noi ci dicevamo andiamo lassù e moriremo tutti. Ma la guerra è una brutta bestia. Nel 1916 sul Monte Fiore il capitano Giordanengo di Roccavione è stato un uomo. Il maggiore gli dice tu prendi la compagnia, la 122, e la porti lassù. Giordanengo gli risponde i miei uomini hanno tutti una mamma. Io i miei uomini non li porto lassù. Allora il maggiore ha mandato la 117. Sono morti quasi tutti. Noi, giovani e vecchi, piangevamo a vedere quei disastri. E sull'Ortigara? Gli austriaci erano sull'alto. Il terreno era scoperto. Andavamo all'assalto in pieno giorno. Tra i reticolati degli austriaci c'erano i varchi e gli austriaci lì non sparavano. Volevano che infilassimo quei varchi e ci arrendessimo. Finita un'ondata, morti quelli, avanti gli altri. Ma erano matti a mandarci così al massacro. Avevamo un tenente terribile, un lombardo. Un mio compagno mi dice, stanotte sono di vedetta. Lo ammazzo. L'ha aspettato. Con un colpo di moschetto l'ha buttato giù. L'ha ammazzato. Si è poi giustificato così. Non mi ha detto la parola d'ordine. Io ho sparato. Non è successo niente. Durante gli assalti noi avevamo l'ordine di sparare fino a distanza ravvicinata. Poi dovevamo andare all'arma bianca a scannarci con le baionette. Ma prima di arrivare alla lotta corpo a corpo un po' scappavano loro e un po' scappavamo noi. Sul Monte Fiore una notte siamo andati 11 volte all'assalto. Gli austriaci erano tutti ubriachi. Una volta mi hanno mandato con una corvée a fare la pulizia di una trincea. Era piena di morti. Cento e più morti. Una gamba qua e un braccio là. Abbiamo preso quei morti e li abbiamo buttati giù dal burrone. La guerra era queste cose qui. Poi è arrivato il disastro di Caporetto. Sono rimasto ferito a una gamba. Da Serpenizza trascinandomi ho raggiunto il tagliamento. Ho visto saltare il ponte con sopra la popolazione. Erano 400 i profughi. Sono tutti morti. Gli austriaci erano a 200 metri. Un mio amico mi ha preso a spalle e a nuoto mi ha portato sull'altra sponda. Dopo la ritirata di Caporetto sono tornato al fronte in linea. Un giorno arriva l'ordine. Bruno Pietro e Lucchese Bartolomeo si presentino al comando. Ci presentiamo al comando. Siamo una trentina di soldati tutti alpini. Un tenente degli arditi ci dice «Voi siete tutti volontari. Tutta gente pronta ad andare all'assalto. Ci smistano nelle retrovie. 20 giorni di istruzione. Dobbiamo saltare un largo fosso pieno di acqua profonda. Dobbiamo strisciare sul terreno mentre le mitraglie sparano delle pallottole vere a filo delle nostre schiene. Non pochi dei miei compagni restano feriti. Poi ci mandano a schio al campo Iolanda. Abbiamo i maglioni neri con sullo stomaco la testa da morto. Abbiamo il pugnale. Abbiamo ancora il cappello alpino. La paga è di 10 soldi al giorno. Non sappiamo più cosa dirci. L'unico vantaggio è che mangiamo bene. Per la prima azione partono 63 camion di arditi. Ne tornano indietro ancora tre. La legge è questa. Prendere la trincea in mezz'ora o in due ore. O morti o vivi. Quando andiamo all'assalto siamo mezzi ubriachi. I licori danno il coraggio nella testa. Licori a volontà. Purché andiamo avanti. Alla fine del 1917 resto ferito alla testa da due schegge di Schrapnel. 52 giorni di ospedale a Novara. Poi mi danno un foglio con la proposta di 15 giorni di convalescenza. Devo presentarmi all'ospedale militare di Torino. Mi presento a Torino dove mi dicono il tuo reparto è stato formato in zona di guerra. Tu sei un ardito. Devi tornare in zona di guerra. Là ti daranno la convalescenza. Mi mandano a Mestre. Da Mestre mi spediscono a Verona al Sesto Alpini. Da Verona mi spediscono a Treviglio. Nessuno mi vuole. Sono ormai 13 mesi che non torno a casa. 13 mesi di trincea. La testa mi fa male. Prendo il treno per cuneo e torno a casa. L'indomani la testa mi fa più male del solito. Arriva il medico di Borgo e mi dice. Guai se ti muovi di lì. Devi stare a letto. Passano due mesi. Come fare a presentarmi? Se mi presento mi fucilano. Nessuno mi ha cercato. Scappo in Francia a Grasse dai miei vecchi padroni. Poi finisce la guerra. Viene l'amnistia. Forse siamo 80.000 i disertori. Mi presento al console di Tolone e torno in Italia. Mi processano. Mi condannano a due anni e poi mi assolvono. Ma sul Rombon avevo visto fucilare due contadini che erano rientrati al reparto con 24 ore di ritardo. Il colonnello aveva schierato sei soldati. E i due poveretti erano lì a pochi passi. Sparate! Aveva ordinato il colonnello. Ma il plotone di esecuzione aveva sparato all'aria. Allora il colonnello ne aveva presi altri sei. Sparate o sparo io a voi? E avevano sparato. Se i comandi non facevano così ne sarebbero rimasti ben pochi al fronte.